Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Michele Parisi, ha rinviato a giudizio 18 imputati, tra cui gli ex amministratori delle aziende del gruppo De Gennaro, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato per complessivi 23 milioni di euro. Tra i 18 imputati, Giulio Daniele, Carmine, Gaetano Pasquale, Vito Michele, Giovanni e Gerardo De Gennaro, ex amministratori delle società beneficiari e dei finanziamenti illecitamente percepiti perché prive dei requisiti richiesti per legge e attestati falsamente nelle richieste di accesso ai fondi. Gli altri 12, imputati per gli stessi reati, sono i legali rappresentanti di quattro società. Il giudice ha inoltre dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione relativamente a tre episodi di falso risalenti agli anni 2001-2004. Il processo inizierà il prossimo 9 aprile dinanzi al giudice monocratico Anna Perrelli. L'indagine, avviata nel 2008, avrebbe accertato l'illecito finanziamento pubblico concesso nei confronti di diverse società baresi, tutte riconducibili al gruppo De Gennaro, per la realizzazione di nuove strutture turistico-alberghiere industriali e per la ristrutturazione di un centro medico sportivo nelle province di Bari, Taranto e Barletta Andriatrani. I finanziamenti, secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, sarebbero stati ottenuti presentando documentazione falsa attestante la disponibilità dei suoli e il rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, sui quali realizzare gli investimenti cofinanziati dallo Stato. L'inchiesta, nel gennaio del 2012, ha portato al sequestro preventivo di beni per 12 milioni di euro, corrispondenti ai finanziamenti già erogati in favore delle società del gruppo. Grazie. Grazie.